ciao e benvenuto bentornato su digital tool case come magari sai mi piace testare e provare tutti gli ai writing tool e quindi in questo video voglio fare la mia recensione la mia review di wright sonic non è un ai writing tool nuovo esiste già da un po di tempo quindi non è un qualcosa di sconosciuto anzi è già ben piazzato sul mercato è interessante ma non l'avevo mai provato quindi lo voglio fare in questo video farti vedere come funziona potrebbe magari essere di tuo interesse ha parecchie futures puoi scrivere gli articoli con uno o pochi click puoi usare un sacco di templates ha una chat che si chiama chat sonic simile a chat gpt ha un bot sonic che invece serve per creare i tuoi bot personalizzati le tue chat personalizzate e poi ha anche un buon piano prezzi devo dire mettiamo lo sul mensile ai diverse possibilità di utilizzo perché poi utilizzare gpt 3.5 e viene chiamato premium oppure gpt 4 e gpt 4 32k che viene chiamato invece superior e il prezzo rimane in realtà lo stesso quello che cambia il numero di parole che puoi usare ad esempio con gpt 3.5 hai naturalmente la possibilità di provarlo e trovi il link in descrizione se vuoi grazie se lo userai e mentre hai questa versione pro che parte da 19 dollari al mese che non è tanto per 100.000 parole al mese naturalmente con gpt 3.5 se invece vai su gpt 4 e usi gpt 4 allo stesso prezzo si dividono per tre le parole che puoi utilizzare con lo stesso piano salendo con 49 dollari al mese ci sono 300.000 parole e anche cinque utenti che possono utilizzarlo anche qui con gpt 4 tutto viene diviso per tre allo stesso prezzo ma poi si può anche salire in base alle esigenze come prezzo di partenza non è male per 100.000 parole con gpt 3.5 e qui ci sono tutte le future sono incluse compreso il brand voice compresa la generazione di articoli fattuali in questo caso bisogna usare però gpt 4 quindi superior qui però il bello che non devi scegliere tra uno o l'altro per attivare il piano ma poi farlo poi proprio usando il tool all'interno comunque questi sono i prezzi puoi ovviamente con link in descrizione arrivare su questa pagina e guardare bene nei dettagli naturalmente con il pagamento annuale si risparmia un 33 per cento quindi questo piano va a finire a 12 dollari poco più al mese mentre con usando gpt 4 ovviamente qui c'è sempre la divisione per tre e salendo 32 dollari al mese per 300.000 parole ok sono all'interno di wright sonic questo è un account pro da 300.000 parole al mese e ho settato l'interfaccia in italiano quindi è più comprensibile naturalmente qui ci sono tutta una serie di templates come si sono visti anche su altri tool per l'e commerce per i social media per altre situazioni non ti farò vedere ovviamente i templates andiamo però a vedere qualcosa di più interessante ci sono due modi diversi di generare articoli con pochi clic c'è questo bot sonic che serve per addestrare un bot una chat sui tuoi dati specifici caricando dei files poi ti farò vedere molto velocemente e poi c'è chat sonic che è qualcosa di simile a chat gpt io partirei da questo scrittore di articoli 5.0 l'ho provato in inglese non l'ho ancora provato in italiano quindi vediamo come funziona come si comporta anche in italiano voglio usare questo argomento questo topic benefici dell'aromaterapia per questo esempio posso fare la ricerca di articoli e wright sonic andrà nelle serp a cercare i miei competitors ora posso ovviamente selezionare alcuni di questi articoli sono da 1 a 10 quelli che posso selezionare io vado a selezionare quelli che sono ovviamente pertinenti a quello che voglio scrivere in questo caso ne seleziono solo tre ma potrei arrivare fino a 10 con il minimo di uno posso anche caricare file dal mio computer se voglio inserire delle referenze qualcosa con dei dati da cui wright sonic può attingere questo è molto interessante perché magari hai bisogno di scrivere un articolo che contenga dei dati ben specifici che tu hai e puoi caricare ovviamente il file clicco su next e con questo scrittore di articoli 5.0 non ho molte altre opzioni se io clicco su next ora mi verrà chiesto di inserire eventuali altre informazioni addizionali se voglio non lo farò delle keyword io in questo caso inserisco la keyword principale se voglio posso inserire anche altre keyword posso scegliere un brand voice o tone of voice il brand voice va creato in base alle tue esigenze oppure un tono che possiamo definire professional in questo caso qui seleziono la qualità superior e gpt 4 e premium e gpt 3.5 qui nel pop up posso anche vedere le differenze di reasoning di speed di consciousness io proverei prima con gpt 4 così vediamo come funziona devo scegliere la lingua italiano in questo caso ok e cliccare semplicemente su generate article qui ho anche una guida su come creare al meglio un articolo ottimizzato per la seo nel loro nella loro help section anche se ancora riferita all'article writer 3.0 quindi immagino la dovranno aggiornare ora clicco su generate article e non ci resta che attendere perfetto mi viene detto attenzione perché ti verranno addebitati sia i caratteri in input che quelli in output per un terzo e mi viene dato un una stima mi di quanto sarà lungo l'articolo ho visto che con l'inglese in realtà poi ha scritto meno rispetto a questa stima qui la stima e 1300 e rotti parole vedremo se effettivamente sarà così e posso annullare oppure deselezionare uno di questi articoli oppure confermare io confermo e parte la generazione dell'articolo dovrebbe anche generare subito dopo il titolo una immagine che va a trovarsi online ho notato che le immagini che trova sono abbastanza pertinenti questa è presa da pixabay quindi non abbiamo problemi di copyright ci indica anche il nome dell'autore c'è anche un'altra immagine in questo caso e intanto sta scrivendo l'articolo formatato con tanto di h2 in questo caso vediamo se inserirà anche qualche h3 e attendiamo che finisca credo di aver trovato un piccolo bug perché wright sonic stava scrivendo allegramente l'articolo usando per di più gpt4 è ripartito ok no pensavo di aver trovato un bug perché si è fermato a un certo punto e ho detto vuoi vedere che non mi finisce l'articolo invece sta andando avanti ok volevo farti notare appunto titolo l'incredibile potere dell'aromaterapia scopriamo i benefici generato dall'intelligenza artificiale c'è una sorta di piccola introduzione con un'altra immagine e poi tutto il resto delle sezioni introduzione all'aromaterapia è un approccio terapeutico naturale che utilizza gli oli essenziali per migliorare l'assoluto del benessere è scritto bene perché sta usando gpt4 perché abbiamo selezionato superior in questo caso quindi da quel punto di vista niente da dire ovviamente sta usando il triplo dei crediti quindi gpt4 consuma molti più crediti rispetto a gpt 3.5 nel frattempo ha terminato di scrivere l'articolo mi dice anche approfondimenti consigliati nel finale se desideri approfondire ulteriormente la tematica ci sono numerosi libri risorse eccetera eccetera interessante questo è dovrebbe anche includere dei dati fattuali quando si utilizza superior almeno così dice la home page di wright sonic anche in questo caso devo però notare che le parole non sono tantissime siamo a poco meno di 700 parole quindi l'articolo non è molto lungo e anche quando ho provato la versione inglese era comunque poco più di mille parole meno comunque rispetto al alla stima non so se questo possa dipendere dal numero di articoli che io vado a selezionare tra i competitor magari selezionando dieci articoli il mio output sarebbe molto più lungo e magari lo proverò in un'altra occasione cliccando qui su sonic editor posso andare a editare questo articolo quindi ad arricchirlo a cambiare tutto ciò che voglio utilizzando questa sidebar dove posso scegliere la creatività il la lingua di output posso scegliere anche qui la qualità non me la lascia scegliere probabilmente già impostata su premium posso scegliere la lunghezza dell'output posso anche usare i comandi ad esempio se io scrivo scrivi una lista di tre benefici dell'aromaterapia per il sonno mi basta in teoria cliccare su scrivere con intelligenza artificiale a volte compare anche qua sotto non so perché in questo caso non compare ma clicco qui e dovrebbe eseguire il mio comando infatti sta scrivendo una lista di tre benefici e quindi per usare i comandi ti basta scrivere il comando e poi a fine riga andare a cliccare su questo tasto molto 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 semplice e ad ogni modo qui si possono fare tutte le modifiche si può anche utilizzare queste scorciatoie ai per fare il paraphrase expand o shorten se servisse voglio farti vedere velocemente la differenza con questo ai article writer 4.0 che era la versione precedente e che in realtà però è leggermente diverso perché puoi inserire delle opzioni in più ad esempio io metto la mia keyword il mio argomento e posso fare una ricerca keyword quindi mi darà delle keyword correlate con tanto di keyword difficolti volume di ricerca eccetera eccetera che posso se voglio includere nel mio articolo qui noto che purtroppo non c'è molto vediamo se togliendo una parola trovo qualcosa in più con l'inglese in realtà mi dava molte più keyword probabilmente questo keyword research tool non è tanto valido sull'italiano ma io te lo faccio vedere lo stesso insomma benefici dell'aromaterapia manteniamo la nostra keyword principale come parola chiave proviamo a inserire solamente aromaterapia facciamo un'altra prova in questo modo vediamo se mi dà qualche keyword in più ok avendo soltanto una keyword di corta coda mi dà qualcosa in più qui come vedi ho però delle keyword in inglese quindi suppongo proprio di questo keyword research tool sull'italiano non funzioni purtroppo lo segnalerò ovviamente al supporto in modo che potranno magari farlo funzionare anche con l'italiano ma è importante saperlo ora clicco su next e ho degli altri parametri quindi l'argomento la parola chiave il tono lo lasciamo su professional il point of view in questo caso che non avevo nell'altra versione dell'article writer first person posso inserire una call to action se voglio posso scegliere la qualità io questa volta per provare userei gpt 3.5 quindi premium e non superior e ancora la lingua la mettiamo su italiano posso generare le idee queste sono le idee per il titolo dell'articolo anche qui è uno step che non c'era nel che non c'è nella versione 5.0 quindi l'altro article writer e come vedi qui ho poi altri due step da completare elevare il proprio benessere i notevoli benefici dell'aromaterapia svelati proviamo a usare questo uno vale l'altro ora posso generare delle outline ne generiamo due diverse tra cui scegliere anche questo è uno step che nell'altro article generator non c'è fa tutto da solo in questo caso scegliamone una delle due direi la prima ed ora posso ovviamente modificare tutte queste h2 posso aggiungerle toglierle andare ancora a intervenire su questi settaggi oppure generare l'articolo ok l'articolo è pronto si chiude anche con una call to action non l'avevo selezionata io ma ne ha messa una di sua spontanea volontà c'è la conclusione ci sono una serie di paragrafi l'articolo è abbastanza semplice formattato a parte qui dove è rimasto il markdown per l'h2 in questo caso siamo a 860 parole non è un listicle nonostante in realtà si parli di benefici tante volte magari si vorrebbe generare un listicle con proprio una serie numerata di benefici una lista numerata di benefici in questo caso è più un articolo sì che parla dei benefici ma suddiviso in maniera diversa interessante è scritto bene usa gpt 3.5 in questo caso niente da dire non vedo grossi problemi ovviamente come in tutti gli articoli generati con la intelligenza artificiale bisognerebbe andare un po' a sistemare i modificare eccetera eccetera fattibile con questo sonic editor che ti ho fatto vedere già qualche minuto fa funziona nella stessa maniera puoi anche rigenerare l'articolo se non dovesse piacerti quindi la differenza tra il 5.0 e 4.0 è nelle opzioni che puoi inserire il 4.0 non va però a usare gli articoli dei competitors come fa invece il 5.0 che dovrebbe essere più fattuale e più ottimizzato per la seo proprio per quel motivo ora vediamo velocemente come funziona chat sonic che è la versione di write sonic di chat gpt usa ovviamente gpt 3.5 e in base alle opzioni che selezioni consuma più o meno crediti se vuoi includere i dati di google ad esempio per avere risultati in tempo reale ti utilizzerà il doppio dei crediti che non invece senza usare google puoi anche abilitare o disabilitare la memoria immagino che sia il fatto di tenere conto di ciò che c'è scritto prima nella conversazione di chat e poi ai diversi utilizzi c'è quello generale dove puoi usare anche i dati di google oppure gli altri che sono degli utilizzi specifici come l'english translator in questo caso se devi tradurre qualcosa dall'inglese conviene usare questo ma in questi casi non puoi usare i dati di google funzionano solo con general ai poi hai una travel guide un interviewer stand up comedian e tanti altri usi specifici della chat la general funziona esattamente come chat gpt ad esempio dammi la griglia di partenza del gran premio di formula 1 di austria 2023 vediamo se riesce a trovarlo online sta ovviamente cercando su google per darci il risultato ora non so perché mi risponde così perché io ho abilitato i dati di google proviamo di nuovo con l'inglese ha funzionato quindi magari è di nuovo un problema con la lingua italiana oppure semplicemente uno svarione della chat vediamo subito in questo caso mi sta dando un risultato con anche le fonti e vedo che le prime tre posizioni in griglia sono quelle effettive questo è un articolo che parla di questa griglia di partenza verstappen leclerk sainz norris questi sono i primi in griglia e come vedi verstappen leclerk sainz non so poi se ci sono anche gli altri ad ogni modo riesce ad andare su google e estrapolare le informazioni e poi insomma non ti faccio vedere più di tanto perché alla fine è una chat che funziona esattamente come tutte le altre chat compresa chat gpt ti può essere utile all'interno di wright sonic per generare dei contenuti poi da editare utilizzare nei diversi documenti qui hai altre opzioni riguardanti gli output e che altro ovviamente ricorda che in questo caso stai consumando i crediti quindi non è illimitato l'uso della chat ma esattamente come accade per la generazione degli articoli vai a consumare dei crediti in base a appunto se usi google data oppure no consumi più o meno crediti con questa chat bot sonic come ti dicevo prima ti permette di generare dei tuoi bot quindi delle tue versioni specifiche di chat gpt dove puoi andare a caricare dei file in pdf credo pdf doc e docs con dei tuoi dati quindi puoi andare a fare il training dell'intelligenza artificiale e poi usare questo bot come se fosse chat gpt ma includendo anche i tuoi dati includendo dei link delle sitemap delle faqs puoi customizzarlo quindi andare a inserire anche il tuo logo e via dicendo può essere un modo per creare un tuo bot su un tuo sito web per i tuoi clienti ad esempio o qualcosa di specifico da usare in stile chat gpt puoi includere delle starter questions e via dicendo è una cosa un po ovviamente tecnicamente più avanzata quindi non ti farò vedere esattamente come funziona ma lo puoi fare e qui ovviamente hai un esempio di quello che comparirà ad esempio sul tuo sito web per dare assistenza ai tuoi clienti via dicendo serve principalmente per quello diciamo così hai anche fotosonic all'interno di wright sonic dove puoi generare immagini con l'intelligenza artificiale in questo caso le immagini non hai un numero definito di immagini che puoi generare ma ogni immagine ti scalerà 200 words premium che sono quelli di gpt 3.5 quindi ogni immagine ti costa 200 parole facciamo subito un esempio qui puoi andare a cambiare il formato delle immagini facciamo l'orizzontale un'immagine ma puoi anche generarne più di una alla volta ovviamente se scelgo due le parole che mi vengono scalate diventano 400 quindi lasciamone una proviamo con un esempio a caso ovviamente il prompt è in inglese clicco su generate e nel giro di pochi secondi avrò un'immagine generata con l'intelligenza artificiale e mi verranno scalati 200 crediti come hai visto in questo caso ecco la mia immagine non ci sono molte opzioni in più se vuoi quindi qualcosa che sia più fotografico bisogna scriverlo nel prompt se io includo fotografico invece di pixel art dovrei avere un qualcosa di più fotografico se non sbaglio in questo caso neanche più di tanto ma ci puoi insomma lavorare e smanettare anche in questo caso magari ci sono tool migliori per generare le immagini ma averlo all'interno di wright sonic può essere utile per essere veloce hai un bulk generate dove puoi generare più output in un colpo solo vedo che qui però non ci sono ad esempio le generazioni di articoli ma soltanto i templates ma anche qui puoi caricare ad esempio un csv o un excel con una lista di output che vuoi generare e con un solo clic li potrai generare in serie quindi risparmiando molto tempo wright sonic ha una chrome extension se ti può essere utile c'è tutto il learning center e poi che altro insomma hai la tua library di templates in questo caso se vuoi puoi accedere direttamente all'editor con questo editore sonico in italiano si chiama così e invece di far generare un articolo all'intelligenza artificiale con pochi clic come ti ho fatto vedere poco fa puoi farlo step by step come diciamo alla vecchia ecco anche se è un metodo che funziona ancora molto bene scrivendo dei comandi quindi genera tre idee di titolo per un articolo sui benefici dell'aromaterapia clicco su scrivere con intelligenza artificiale e avrò le mie tre idee di titolo insomma quello che si può fare con tutti gli scrittori di intelligenza artificiale ora ovviamente mi sono anche dimenticato di settare la lingua italiana quindi me lo sta facendo in inglese ma giusto per farti capire qui puoi andare poi a chiedere una outline e generare il tuo articolo step by step pezzo per pezzo come si faceva prima dell'avvento dei one click writer qui hai queste due modalità hai il sonic mode dove puoi vedere anche i templates sulla sinistra oppure il focus mode dove hai solo il tuo editor mi ricorda molto jasper in questa in questo aspetto ovviamente ecco come vedi c'era selezionato english ma basta cambiare in italiano per scrivere in italiano questo è per quanto riguarda wright sonic uno dei tanti ai writing tool a disposizione ti potrebbe interessare ti potrebbe piacere anche per via del prezzo che ripeto non è altissimo in questo caso se sfrutti queste 100 mila parole al mese si tratta di 19 dollari al mese se vuoi pagarlo annualmente ovviamente costa meno se ti servono più parole il costo è 49 dollari al mese o annualmente 32 e rotti dollari al mese se ti servono ancora più parole ovviamente si sale anche con il prezzo puoi provarlo c'è il free trial con 10.000 parole quindi c'è link in descrizione ancora grazie se lo userai perché il mio link d'affiliazione e questo è per quanto riguarda i piani e i prezzi di wright sonic un tool che insomma funziona bene la piattaforma è veloce non ho trovato bug anche perché esiste da un po c'è la chat c'è la possibilità di creare i tuoi bot fa tutto quello che deve fare anche includendo i dati in tempo reale e poi come tutti gli altri tool di intelligenza artificiale subirà ovviamente dei miglioramenti e delle ottimizzazioni con delle future in più come sempre io spero che questo video ti sia stato utile per conoscere anche wright sonic se non l'avevi mai visto al lavoro se è così clicca su like e iscriviti al canale se ti piace questo tipo di contenuti mi raccomando segui digital tool case perché mi piace fare review di questi tool e ne farò sicuramente altre grazie per essere stato qui fino ad ora e come sempre ci vediamo in un prossimo video